Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso e ancora non è qua. Ciao a tutti, buona giornata, buona mattinata a tutti voi amici del tubo, buonasera. Niente, è arrivata la posta, vediamo cosa è, perché può essere sempre qualcosa, bisogna... Di mattina questo c'è, fare le pulizie, suona il postino. Non è niente, non è niente, non è niente. E vabbè, mettiamola qua, signori miei. Parliamo di altro, parliamo di altro, pensiamo ad altro, perché se pensiamo le cose brutte non se ne va più. Allora, noi non siamo qua per pensare le cose brutte, noi dobbiamo pensare le cose belle, ok? Perché ce le ha le cose belle, io non ce le ho e li penso. E l'importante è pensare, è sbagarsi, capito? Oggi non cucino niente, stasera stai facendo un po' di pasta bella calda. O la faccio con le lenticchie e gli spinaci, bella cavura cavura, che di sera i piedi ghiacciano ed è l'unica cosa che può quareare. Oggi mi arrancio, sono rimasti i spinaci di ieri, ci sono salumi, salame. A voi, li arranciamo, li arranciamo a pranzo, capito? Non bisogna mettere le mani nell'acqua, capito? A lavare sempre, lavare sempre, non tutti hanno la lavastoviglia, hai capito? Non tutti ce l'hanno. Mi cugnate ce l'hanno, capito? Loro, naturalmente, loro hanno tutte le comodità. Evviva per chi ha tutte le comodità, senza invidia per nessuno, per carità. Ma io, quello che mi auguro, pure io, potrò avere le comodità che hanno gli altri. Tempo al tempo, oggi tu, domani io. In tutto è così, oggi tu, domani io. Sia nelle cose belle, sia nelle cose brutte. Per questo dico, mai bisogna godere nelle cose degli altri. Se sono belle, sì. Se sono brutte, no. Capito? Poi io, per quanto riguarda goduria, che devo godere più? Non ho più niente da godere. E lo sapete perché già mi conoscete da tanti anni. Non ho più niente da godere. Su gnocca, a bilistan non mi stai facendo meno. No, e chi me ne frego di tutte le cose. Per me si può... No, 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 no. Anzi, non vi nascondo che fino all'anno scorso mi applicava a qualsiasi cosa. Diceva perché, perché, chi se chiedo. E chi da da me manda spiegi. Quest'anno chiedo a quello che vogliono fare, fanno. Capito? Mi vogliono mandare spregi sulla zappa. E mi mandano spregi sulla zappa. Signor, io, sape di non vedere. Tanto tutto è un bummerang. Pappate, ritorna. Ritorna. Anche il postino ritorna. Che io ieri non ci avevo risponduto e i due sei natato in no. E mi fottivo nel mentre che io ero così, con il tappeto fuori. Mi sento dire, signora, che c'è? Scenda. Ora una neanche deve più potere affacciare, io dico. Ora una neanche perché siamo controllati, sorvegliati di tutte. Non lo so. Fate voi e ditemelo voi. Do tappeto che io sono nato sbattivo, chissà quanto piccolo mi costo. domani il tappeto lo sbatto nel camerino. Capito? E signori miei, non è che io mi posso fare chiamare di tutti e di che passano. L'altra volta pure, l'altra volta nel mentre che stavo scopando il sequé se basta mi stanno soltando le orecchie ce l'avete presente? Quella è l'apa la lapa che passa con tutte le bombole sopra era lui quello che vi porta la bombola dice signora allora come usiamo come date che a me ne appareci bombole capito? sono rimasta distucca nel balcone così no no questi balconi ora è meglio che si levano ok? meglio che si levano li lavo ora, vediamo, li rumine a notte ora messo a notte per lavare alcune per sbattere il tappeto messo a notte ci alzeremo di notte comunque viva la vita buongiorno a tutti buona giornata a tutti voi che state seguendo questo video con un bacio mio affettuoso